In molti ci dicono incontrandoci per strada Presidente, lavorate tantissimo ma non riuscite a farlo sapere agli altri. Ecco, abbiamo bisogno di comunicare. Oggi abbiamo sperimentato questa prima tappa a Palermo per far conoscere ai siciliani che cosa il governo regionale ha fatto in questi tre anni e mezzo e cosa intende fare fino alla scadenza della legislatura. Abbiamo avuto centinaia e centinaia di iniziative in tutti i settori dell'amministrazione con un impegno straordinario da parte di tutti gli assessori. Stiamo lavorando, abbiamo aperto un grande cantiere per cambiare la Sicilia, per rimuovere le macerie che abbiamo trovato, per ricostruire le condizioni essenziali affinché i nostri figli non debbano più lasciare questa terra. Ed è giusto che si vada in giro per l'isola perché gli altri sappiano e perché ognuno di noi possa trarre anche motivi di stimolo e di sperone.